Buonasera a tutti, ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Sono 600 i vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che stanno operando in Emilia-Romagna per far fronte alle richieste di soccorso causate dalle forti piogge di ieri e di questa notte. Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati 450 interventi. Nella clip le operazioni di soccorso con l'esercito italiano per il recupero di ben due famiglie con bambini bloccati a Forlì nella zona della Cava in via Emilia. Sono rientrati nelle loro celle i 20 detenuti protagonisti di una protesta nel carcere di Avellino. Sono tutti detenuti comuni. Hanno distrutto arredi e suppellettili in seguito alla punizione inflitta uno di loro per motivi disciplinari. Carabinieri e polizia avevano circondato il carcere. All'interno la direttrice Concetta Felaco e gli agenti di polizia benitenziaria hanno trattato con i detenuti. Si parla di due agenti feriti. Un dodicenne è stato preso a calci e pugni senza motivo all'esterno di un centro commerciale a Napoli. Gli aggressori sarebbero dei ragazzi di 15 anni. Le violenze sono state filmate e pubblicate sui social. I familiari del ragazzino hanno già presentato una denuncia alle forze dell'ordine. Siamo quasi in chiusura. Vediamo insieme il meteo per domani. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. In assorbimento dalla sera con schiarite. Per questa sera è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.